Attimi di paura in pieno centro cittadino di Battipaglia. L'altra notte alcuni ragazzi dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo si sono azzuffati al culmine di una discussione nata per una ragazza contesa. La rissa ha svegliato alcuni residenti che hanno allertato le forze dell'ordine intervenute prontamente sul posto per riportare alla calma la situazione. Alla base della discussione probabilmente l'atteggiamento di uno dei giovani che avrebbe infastidito una ragazza dell'altra comitiva scatenando la reazione degli amici.